Giorgio Manetti Giorgio Manetti, sono stati protagonisti di un rvm in cui è stato mandato in onda l'inedito audio durante l'ultimo ballo che i due hanno condiviso al centro dello studio. Sembrerebbe, stando alle parole del cavaliere Fiorentino, che le cose tra i due ex non siano chiuse del tutto, nonostante la stessa Gemma abbia deciso di mettere un punto definitivo. Che cosa succederà nella puntata in onda venerdì 9 marzo? Grazie a tutti!